Nel prossimo round, le previsioni complessive restano più che accettabili. Cerca e distruggi. Vittoria conseguita. Con ogni probabilità domineremo anche il prossimo round. Cerca e distruggi. Distruggete l'obiettivo. Bomba acquisita. Distruggete l'obiettivo. Il nemico ha disinascato la bomba. Rivedere l'equipaggiamento prima del prossimo round. Cerca e distruggi. Cerca e distruggi. Cerca e distruggi. Il tempo sta per scadere. Rivedere l'equipaggiamento prima del prossimo round. Cerca e distruggi. Distruggi l'obiettivo. Bomba acquisita. Il tempo sta per scadere. La bomba è stata piazzata. La stessa strategia sarà efficace anche nel prossimo round. Il tempo sta per scadere. La stessa strategia sarà efficace anche nel prossimo round. Cerca e distruggi. Distruggi l'obiettivo. Bomba acquisita. La bomba è stata piazzata. Scarab pronto all'uso. La stessa strategia sarà efficace anche nel prossimo round. La stessa strategia sarà efficace anche nel prossimo round. Cerca e distruggi. La stessa strategia sarà efficace anche nel prossimo round. La stessa strategia sarà efficace anche nel prossimo round. La stessa strategia sarà efficace anche nel prossimo round. la stessa strategia sarà efficace anche nel prossimo round. Grazie a tutti.